che stiamo tessendo, abbiamo detto quanto sia importante questa nostra collaborazione e quindi passerei volentieri la parola all'assessore Romano. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Anna. Sindaco Bergamino, ogni tanto mi scappa Sindaco Bergamino. Dottor Bergamino, io porto saluto dell'amministrazione comunale di Gorizia e ringrazio il Sindaco di Muffercone perché rende visibili a livello sia regionale ma anche diciamo più vasto, per un incontro più vasto per i personaggi goriziani. Quindi di questo ti ringrazio veramente. E quando tu hai parlato di sinergia e sinergia tra comuni, questo è ciò che stiamo facendo per poter arrivare al 2025 in un modo sinergico e che dia voce a tutti i personaggi di tutta la provincia di Gorizia e anche fuori. Ringrazio assieme a ringraziare a te e al Presidente della Carico tutte le persone che hanno reso possibile questa mostra. Quindi anche i privati che sono l'anima portante di tutto ciò che facciamo se non ci fossero i privati, oltre alla Fondazione Caricera. Logicamente non riusciremo a fare ciò che stiamo facendo. Grazie a tutti voi per essere presenti e grazie Anna. Questo è uno dei primi progetti che facciamo assieme e senza altro fino al 2025 avremo modo di fare tantissimi altri.